Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro Lugufo followers, buon pomeriggio a tutti voi, attenzione dobbiamo parlare di calcio Andiamo a vedere quello che sta succedendo in Serie A, occhio perché ci sono degli scontri politici Ci sono delle novità, andremo a vedere di che si tratta poi followers, attenzione bisogna parlare della nostra squadra Ma prima di iniziare voi sapete che è d'obbligo il momento tenerezza E' importante fare l'iscrizione al canale, bisogna farlo perché è gratis ed è l'unico modo che c'è per supportare questo canale E poi dovete lasciare un like se non ve la sentite, se non volete farlo, non succede niente Poi però aspettatevi, Peppino Chined e Tossobuco che viene alle vostre porte a bussare E vi viene a cercare followers, parliamo di cose importanti, attenzione dobbiamo parlare di Savuna Ieri avete visto che è uscito anzitempo durante la partita che abbiamo pareggiato purtroppo Però alla fine lui non ha nessun problema, non c'è nessuna lesione Quindi starà fermo fino alle prossime visite strumentali E voi sapete che per la nostra squadra questa cosa è preoccupante Però l'importante è che non ci siano lesioni, alla fine potrebbe tornare a disposizione molto presto Nella partita che giocheremo contro a Lecce probabilmente rientrerà Vlaovic Non si sa se possa rientrare Nico Gonzalez, sicuramente non rientrerà Savuna Sicuramente non rientrerà Douglas Luiz che alla fine non si capisce bene che cosa Però vediamo followers, vediamo che cosa succede Però l'importante è che Savuna non si sia fatto male sul serio Però questo è un dato preoccupante È un dato allarmante Molti di voi mi hanno scritto dicendo Ma qui alla fine stiamo criticando troppo la Juventus Ragazzi io capisco, io sto criticando la Juventus Non è una critica, è una critica costruttiva Voi mi direte, ma costruttiva di che? Che cosa stai costruendo? Niente Però la mia è una critica legittima Perché alla fine io guardo le partite e do il mio giudizio Io non mi sto lamentando con l'allenatore Ieri lo avevo pure specificato Secondo me non è colpa dell'allenatore In un certo modo è colpa comunque di tante cose Di tante vicissitudini che si sono comunque messe lì di traverso Perché noi abbiamo avuto anche sfortuna Questo è vero Però followers, noi dobbiamo ricordare anche una cosa È vero che la nostra squadra difende bene Prendiamo pochi gol E poi non ne facciamo tanti Ne facciamo veramente pochi Questo è vero Però dobbiamo anche ricordarci una cosa Quello che è successo alla nostra società Noi abbiamo ricevuto l'anno scorso una stangata Siamo stati comunque sull'orlo Proprio di andare sull'astrico Perché siamo stati esclusi ingiustamente dalle coppe Siamo stati squalificati Multe contro multe Ti tolgo i punti Ti faccio qua, ti faccio là È normale che la nostra società sia in difficoltà E stia cercando di risolevarsi Bisogna dare fiducia a Giuntoli E bisogna dare fiducia all'allenatore e alla società Per quando le cose non vanno bene E noi possiamo esprimere il nostro parere Secondo me così non va bene pareggiando tutte queste partite Però non è molto Non è facile Non è scontato Perché poi come facciamo Visto che abbiamo a disposizione Pochi calciatori E quelli che sono a disposizione E poi rischiano Come è successo ieri con Savuna Vediamo che cosa può succedere Followers Ieri abbiamo giocato anche con Coppiners Che è entrato in scarse condizioni fisiche Sembrava stanco Non so quello che è Molto probabilmente l'allenatore lo avrebbe messo in panchina E fatto giocare un altro calciatore Per farlo riposare Però vedete che non è stato possibile Perché all'ultimo pure McKinney ha dato forfè Anche McKinney è stanchissimo Ha giocato tante partite Vedete che non è semplice Però noi siamo la Juventus E quindi abbiamo fide nella nostra squadra Sappiamo che risorgeremo Parliamo di cose importanti Followers Attenzione Vi voglio dire una cosa C'è questo messaggio Che da Zoon praticamente Stia pensando Insieme a DeServe Insieme a Lagi Come insieme a questa Piracy Shield Loro stanno pensando Di denunciare tutti gli utenti Che hanno visto delle partite A Catania Voi sapete che a Catania Hanno sgomberato Sono riusciti a trovare Un data center Ossia un posto Dove ci sono tutti i server Tutti i computer accesi Che trasmettono la visione Trasmettevano la visione pirata Di alcuni contenuti sportivi Tipo le partite di da Zoon Quindi questi qua Il classico pezzotto Alla fine come funziona Il pezzotto funziona Che voi vi collegate Se avete questa scatola Questa cosa Non so come funziona Però sarà un tipo Di mini computer Una scatoletta Che all'interno Si può installare Un programma Che si collega al pezzotto Adesso questo pezzotto Giustamente in questo caso Per questi utenti Erano dei server Che stavano Vicino Catania Nella provincia di Catania Non so loro Sono intervenuti Hanno sequestrato Hanno sequestrato questo materiale E adesso hanno a disposizione Tutti i nominativi Delle persone che hanno visto In forma pirata Delle partite di calcio Adesso da Zoon Vorrebbe portare in tribunale Tutti questi abbonati A questo servizio illegale E vedete che ci dicono I legali di da Zoon Sono già a lavoro Vogliono ottenere Un risarcimento Da tutti i pirati Caduti nella rete Della procura di Catania Se ci riusciranno Anche dei singoli sportivi Che hanno visto Illegalmente le partite Per aggredire i beni Dei pirati Ora indagati Praticamente Che cosa succede? Che questi qua di da Zoon Adesso siccome non hanno un'alito Dicono Vabbè Adesso noi A questi qua li denunciamo E vediamo un po' Li portiamo in tribunale Vediamo se riusciamo A risolevarci Anche perché Questi utenti Adesso Se sono stati individuati Dovrebbero anche Pagare delle multe Ragazzi Il problema è questo Io adesso Non voglio entrare Nella faccenda Perché sappiamo Che vedere le partite In maniera illegale Non è legale Quando loro dicono Che la pirateria Ammazza il calcio Uccide il calcio Sono quasi d'accordo Perché secondo me Il calcio Lo uccide Gente come Ceferin Come Gabri Gravina Come Abodi Come Malagò Come Peppino Chinè Come Deservo Gente cartonata Che non sta lì A fare il lavoro Come la Covisoc Gente cartonata Che stanno lì E invece Di fare il bene Del calcio Fanno i propri Interessi Secondo me Sono questi Che uccidono il calcio Però Quello che succede Io devo dire Una cosa Adesso Tutta questa Cosa Che loro Adesso Subito Dobbiamo intervenire Vediamo un po' Portiamo in tribunale Questi facciamo Io non ho visto Tante forze Mobilitarsi Nel momento In cui Ci sono state Delle persone Che sono andate A vedere Delle partite Non via internet Perché via internet Quanto costa L'abbonamento A questi servizi Legali 10 euro 20 euro 30 euro Io non lo so Quanto denaro Hanno risparmiato Queste persone Però un conto È che una persona Va a vedere Una partita Spende 800 euro 500 euro 600 euro 1000 euro Per comprarsi Un biglietto Da una persona Della mafia Una persona Che il biglietto Non lo ha pagato Lo ha ricevuto In dono Da una società E questi biglietti Ne chiedono 200 Addirittura La società Ne offre 500 Ci sono le Intercettazioni Ci sono anche Le dichiarazioni Dell'interessato Che dice Sì Mi hanno chiesto 200 biglietti Io mi sono mobilitato Ne abbiamo dato 500 È tutto registrato Però lì Non c'è Tutto questo Beh ma che fa Alla fine Siamo tutti Si fa per scherzare Brava gente Alla fine Tutto a posto Però adesso Con quelli del pezzotto Si vogliono Mobilitare tutti quanti Invece Non si è indignato Nessuno Quando la S Inter di Milano Regalava I biglietti Agli ultra Che poi se li rivendevano Followers Comunque cambiamo argomento Proprio su questa cosa No Vete che ci sono Delle indagini Adesso Tutta l'Italia Sott'indagini Sott'indagine Gabri Gravina Era sott'indagine Cioè sott'indagine È stato fatto un esposto Quindi quelli della Covid Se la sono svignata Tra comunque L'indifferenza Di tutti quanti Ma sono cose che succedono Vedete adesso c'è Il primo morto Prima c'era stato Comunque un altro morto E hanno verificato Che comunque Tutti quelli della cartonese Tutti in galera Ogni giorno Andava uno in galera Che era della cartonese E abbiamo verificato Anche un'altra cosa Che questo bagarinaggio Non era l'unico problema C'erano i parcheggi C'erano queste cene Con cui comunque I calciatori Della Sf Inter di Milano Uscivano a cena Con degli esponenti E le loro famiglie Con degli esponenti Della E poi vi farò vedere Le granate Perché io sono proprio Un assiduo consumatore Di granate Di coltelli Ragazzi Dovrei avere un coltello Qui da farvi vedere C'è un coltello Anche Un coltellino Di quelli comunque Da omicidio Ce l'abbiamo tutto Non ci facciamo mancare niente Ma si fa per scherzare Ragazzi Si fa per scherzare No alla fine Tutti ce l'hanno Queste armi in casa No Però a Bodhi No Non mi aspetto sanzioni Ci mancherebbe Ma perché Brava gente Poi però a Bodhi Vi ricordate ragazzi Che cosa ha parlato No Praticamente Nella Juventus Lui dice Non conosco bene Le carte Ma nello sport Si muore E si rinasce Anche dalla serie B E proprio a Bodhi Lo stesso signore Andrea a Bodhi Quando si tratta Della cartonese Eh Ma non ci sono sanzioni Non mi aspetto sanzioni Tutto a posto No Tutto bene Qualche omicidio Qualche accoltellamento Falso in bilaggio E poi questo che viene indagato E questi della mafia Che tramite una banca Anch'essa mafiosa Regalavano soldi pubblici A delle aziende inesistenti Truffa E questo qua Il riciclaggio Non mi aspetto sanzioni Ma perché no Tutto a posto Ma tutto bene Poi però Sempre lo stesso signore Eh Vi ricordate Nel 2022 Quando si trattava Della Juve Eh va bene Ma comunque Lui disse No Anche Nello sport Si muore Si rinasce Anche dalla serie B Vi ricordate Fece gli esempi Il Palermo Il Il Pia Napoli Fece l'elenco Di alcune squadre Che erano comunque State retrocesse No Eh no Eh c'è C'è Ma sì Lì Dobbiamo comunque Ci saranno delle sanzioni Si aspettava delle sanzioni Che poi sono arrivate No Nonostante abbiano cercato Di limitare i danni Con dei patteggiamenti Su dei processi Che adesso si faranno E andremo a vedere Se veramente La Juventus Poteva essere colpevole Però davanti alle giustizie sportive Abbiamo dovuto patteggiare Per limitare i danni Visto che già Era una catastrofe Senza coppe Eh Con tutti i problemi Che abbiamo avuto La società Ha preso questa decisione Di patteggiare Davanti alle giustizie sportive Adesso si terrà il processo Tra breve E vedremo un po' Se comunque Era giusto O non giusto patteggiare Però vedete ragazzi Due pesi Due misure Quando si tratta Della cartonese Giustamente Avudi dice No Tutto a posto Non mi aspetto sanzioni Però quando fu della Juve Giustamente lì Si si aspettava sanzioni Serie B E così poi Per i navi Ma andiamo in serie B Vi facciamo pure un favore Perché dalla serie B Si rinasce La stessa persona ragazzi Ovviamente Perché È periodo di elezioni E non si sa mai Siccome È tutto cartonato Meglio Tenere buoni I cartonati E quindi No Non mi aspetto sanzioni Io sono qui E se vi volete Rieleggere Io sono qui Tutto bene ragazzi Ovviamente Due pesi Due misure Ad ogni modo Followers La seduta Con il vostro Yugufo Termina qui Io vi ricordo Il momento tenerezza Fate l'iscrizione al canale Voi sapete che è gratis Lasciate un like Se il video vi piace E noi ci vediamo Nella nostra prossima seduta Di domani Chi non si iscrive al canale È una body Mmm Yeah Yeah